e allora buongiorno e allora buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti rido per questo lunedì diciamo di salteggi ma poi ci vediamo buongiorno a tutti iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti condividetelo con tutti i tifosi che conoscete guardate i video fatti di commento alle parte recuperate tutto seguite surf a sport su instagram mi raccomando seguitela tutti che è una pagina di calcio e lifestyle molto fresh che vi consiglio assolutamente andatela a seguire dicevo guardate i video fatti condividete questo con tutti i tifosi delle squadre italiane menzionate che conoscete e stasera ore 21 processo al campionato live con il buon Simone Absim il Monarca Nero Azzurro e il Bruni quindi live scoppiettante alle ore 21 attivate il campanaccio e torneremo anche sulla questione sorteggi su tutto quello che è stato il turno di Serie A ma veniamo a questo lunedì di nostrismo diciamo con i sorteggi prima fatti poi annullati rifatti e viceversa io ovviamente non inizio dalla Champions vado a cascata tra l'altro ho sbagliato anch'io perché stavo aspettando un fantomatico sorteggio della Roma no pensando che anche la Roma fosse nei playoff di Conference League e poi ad una certa mi sono reso conto che la Roma era arrivata prima quindi non c'era nei sorteggi per fortuna che hanno annullato perché sennò avrei aspettato anch'io all'infini diciamo un lunedì di rincoglionimento totale generale nostro ok ho goduto ho goduto da tifoso della Fiorentina me lo concederete ho goduto per questo casino che poi sono venuti fuori quelli della Superlega a dire Cefere in vergogna e via dicendo no io dico grazie al presidente Cefere che ci ha fatto passare un lunedì di divertimento di divertimento all'insegna del nostrismo e dell'imprevedibilità allora io dalla Conference League non ho di che iniziare me l'ero segnata da rincoglionito pensando ci fosse stata Roma però sulla Conference League voglio dire comunque qualcosa che fa cagare ecco questo penso che me lo concederete veramente ci stavo riflettendo l'altro giorno al cesso è una competizione veramente di cui non capisco e non trovo l'utilità e onestamente ve lo dico posso posso dal tifoso della Fiorentina che fortunatamente si sta giocando una posizione europea concretamente nell'attuale Serie A ecco io non so se ovviamente ci saranno dei tifosi della Fiorentina all'ascolto ecco chiedo la vostra cari cari ragazzi cari fratelli viola ecco io io piuttosto che giocare la Conference non gioco niente io sono un grandissimo amante dell'Europa League ancora meglio della Champions per me come competizione ma questa Conference qua veramente è una cosa assurda atroce e che spero vivamente vivamente di evitare ok spero vivamente di evitare quindi passiamo all'Europa League con i tre sorteggi delle italiane delle tre italiane che si devono sorbire il playoff e questi non sono stati annullati allora Napoli Barcellona Lazio Porto e Atalanta Olimpiakos occhio perché qui vi dico anche cosa succede secondo me chi passa chi non passa faccio subito la sparata se la Lazio avesse pescato il Barcellona al posto del Napoli per me la Lazio sarebbe passata in un in un imprevio avrei voluto vedere Lazio Barcellona mentre così secondo me non passa nessuno delle due cioè il Napoli questo Napoli e temo il Napoli che sarà poi in quel periodo lì tra magari altri infortunati Coppe d'Africa Cali e via dicendo non vedo un Napoli capace di andare a passare il con il Barcellona forse anche neanche voglioso perché magari si starà giocando il quarto posto chissà cosa anche il Barcellona si sta giocando il quarto posto sono d'accordo che non è un gran Barcellona Barcellona in crisi ma il Barcellona ha il blasone la forza e anche l'opportunità più del Napoli paradossalmente di andare in Champions attraverso l'Europa League che vincere anche un trofeo che alla portata del Barcellona potrebbe lenire un po i dolori di una stagione di una situazione abbastanza devastante non credo che il Napoli passi col Barcellona sorteggio un po sfortunato non mi vedo uno Spalletti capace di superare quindi Napoli Barcellona dico che il Napoli esce Lazio Porto per me la Lazio esce anche lei perché questa Lazio molto derelita Porto è una squadra rognosa qualitativa forte di esperienza ha anche dei bei giocatori con sensato è un allenatore un po in stile simeoniano gioca meglio il simeone però diciamo come come spirito come nuove leve gioventù vedo un porto superiore alla Lazio questa Lazio vi ripeto se la Lazio avesse avesse pescato il Barcellona sarei stato più incline alla sorpresa col Porto no secondo me sarà una partita un turno molto norme nel quale il Porto avrà ragione dalla Lazio mentre Atalanta Olimpiakos per me l'Atalanta passerà passerà contro l'Olimpiakos che non è una grandissima squadra non ha questa formazione sia qualche elemento interessante in attacco però non vedo una formazione a livello dell'Atalanta penso che l'Atalanta possa passare il turno lo passerà quindi ragionando sull'Europa League un sorteggio abbastanza sanguinoso per due su tre e tra queste io penso avanzerà solo l'Atalanta e Napoli e Lazio non le vedo avanzare onestamente poi veniamo alla Champions League io qui vi devo dire che sul passaggio dei gironi delle italiane abbiamo beccato 4 su 4 nel senso che se era detto vi ricorderete che il Milan Milan Atalanta sarebbero state eliminate e che Juve Inter sarebbero andate avanti c'è però parto da una delusione mia personale che è quella del Wolfsburg perché se vi ricorderete quando c'è stato il sorteggio dei gironi vi dicevo che il Wolfsburg era una squadra che mi piaceva infatti sono stato molto deluso dal vederla perdere in modo rovinoso tra l'altro con un partitone di icone in casa con Lille perché cazzo è una squadra che ha i vari Weghorst steffen coso come si chiama schlager che è un giocatore che mi piace moltissimo schlager nazionale austriaco luke bacchio mi aspettavo mi aspettavo una cera che gioca col 3 4 2 1 era un girone aperto ecco sono un po rimasto deluso dal Wolfsburg mi aspettavo qualcosa avrei gradito sono quelle squadre diciamo tipo l'offenheim quelle belle realtà di bundesliga medio alta che sembrano squadre fatte dagli elohim capito con delle pontatine pazzesche mi ha un po deluso il Wolfsburg mi ha un po deluso vabbè comunque a parte questo c'è il siculone che becca in ambo i sorteggi sia quello fallace che quello vero il Lille ok io vi devo dire era andata molto meglio ovviamente per le italiane nel primo perché io ho sentito già i paraculismi che si dicevano l'aveva fatto il primo col primo sorteggio c'era gente che andava in giro a dire no la Juve con lo Sporting Lisbona deve stare attenta può essere che non passi cioè vi dico se il primo sorteggio rimaneva tale era una manna dal cielo per tutte e due le italiane ma specialmente per l'Inter perché io vi dico non sono d'accordo con chi già iniziava a fare lo specioso e a dire che l'Inter con l'Ajax usciva che era stato un sorteggio sfortunato per quelle che erano l'avversario per l'Inter era stato un sorteggio fantastico e l'Inter contro l'Ajax l'Inter passava contro l'Ajax l'Inter passava perché magari in Olanda reggeva l'urto o magari segnava un gol che ti teneva aperto il conteggio a Milano c'erano 80.000 tifosi al ritorno all'andata quando si sarebbe giocato ma l'Inter a San Siro l'Ajax avrebbe potuto metterlo sotto anche perché l'Inter inutile girarci attorno è vero il discorso che l'Ajax gioca bene che in Europa hanno un gioco diverso ma l'Inter non è che gioca male e poi ha già sto anno ha una mentalità europea ingermogliandi e poi ha una rosa che contro l'Ajax può dir la sua perché l'Ajax ha l'Air che è un fenomeno per carità di Dio Anthony che è un grandissimo giocatore a me piace molto ma l'Inter ha una difesa che è tra le migliori d'Europa sulla carta un centrocampo che sta performando alla grande e un attacco che si difende quindi l'Inter aveva avuto un grandissimo culo nel sorteggio aveva avuto una grandissima opportunità l'Inter per me passava con l'Ajax invece adesso hai beccato il Liverpool e non puoi chiedere un cazzo sostanzialmente cioè non vedo neanche spiragli per un miracolo perché puttacaso e non è detto che a San Siro ti giochi le tue carte anche perché loro verranno a giocare non è che vanno a giocare a San Siro con te come hanno fatto col Milan l'ultima schierano i titolarissimi e la vedo molto dura e poi comunque puttacaso che riesci anche a fare una partita dignitosa a San Siro devi andare ad Anfield Road quindi lì all'Inter do pochissime possibilità purtroppo l'Inter è veramente la presa dove non batte il sole con questo discorso del rifacimento dei sorteggi tra l'altro sono venute fuori sfide anche più interessanti rispetto a quelle del primo sorteggio al di là di quelle italiane quindi l'Inter mi spiace ma non vedo estremi per passare secondo me esce la Juve allora la Juve gli era andata di culo con lo sport in Lisbona anche lì si era già iniziati a fare paraculismi cioè che cosa devi beccare per dire mi è andata bene il sorteggio poi gli era andata bene anche gli anni scorsi perché con Lione gli era andata bene col Porto gli erano tutte squadre alla portata quest'anno se beccavi lo sport e avevi preso forse la squadra migliore che potevi prendere nei sorteggi era una squadra alla portata poi è vero che la Juve è in difficoltà e che per come è messa può avere erogne con chiunque ma con lo Sporting anche lì ti era andata da dio e non sono d'accordo ho sentito su Sky gente dire è meglio aver preso il Villarreal dello Sporting ma in che universo parallelo Villarreal se avete visto la partita con è vero che è una squadra che va a corrente alternata che in campionato va male ma anche la Juve va male in campionato ma sono convinto che in Champions abbia tutt'altro approccio Villarreal visto contro l'Atalanta a Bergamo l'altro giorno può mettere in grossa difficoltà la Juve se la Juve fa una partita delle sue del cazzo così disattenta superficiale e svogliata e mal organizzata Villarreal ha vinto l'Europa League l'anno scorso è piena di elementi di esperienza c'è un centrocampo con Capu Pareko che è veramente a volte estremamente performante c'è anche un attacco con Chukwueze c'ha una squadra c'ha Pau Torres che è nazionale spagnolo non è una squadra sottovalutare è un mini Siviglia è un mini Siviglia per ambiente per pelo sullo stomaco per esperienza per intensità non è era molto meglio lo sport in Lisbona chi ha paligna due tre elementi buoni per carità ma non è una squadra cioè io se mi metto nella logica di uno juventino avrei preferito molto di più portarmi a casa lo sport in che il Villarreal Villarreal la Juve ha le possibilità per superare il turno però con lo sport in Lisbona ero molto più sicuro del passaggio qui col Villarreal veramente è una sfida è una sfida aperta sulla carta guardate io penso passi la Juve ma proprio sono combattutissimo mi viene da dire che la Juve passa per un discorso che mi sembra strano che esca per il terzo anno di fila dopo essere arrivata prima nel girone con una squadra che comunque sulla carta per me è più scarsa di lei nuovamente però se guardo il gioco se guardo Emery se guardo l'ambiente se guardo le inerzie non mi stupirei di vedere un re-editing di Porto Juve guardate che Juve Villareale è una sfida che alla vigilia è veramente sul filo sul filo del rasoio si gioca specialmente quando magari dovrai andare lì ma anche quando verranno loro in casa perché magari ti fanno le barricate giocano come l'Atalanta attenzione signori io dico guardate dico che va avanti la Juve per un po' spirito di continuazione rispetto a quello che ho fatto gli altri anni che prima o poi la becchiamo diciamo però era molto meglio lo sport ero molto più sicuro con lo sport in Lisbona quindi ricapitolando le mie sentenze Europa League Napoli e Lazio vanno fuori l'Atalanta passa e in Champions League dico che l'Inter va a casa e la Juve passa però vi ripeto occhio occhio alla Juve non sottovalutate il Villareal perché veramente siamo siamo agli opposti cioè ho sentito gente avere timori dell'Ajax e dello sport in Lisbona che specialmente per quella che era la situazione dell'Inter era un sorteggio della Madonna e gente che adesso dice meglio il Villareal dello sport in Lisbona ma dove ma attenzione attenzione è veramente un sorteggio difficile quello della Juve da non sottovalutare ditemi cosa ne pensate condividete attivate il campanace e a stasera